Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. L'eliminazione della tassazione sulla prima casa ha sì interrotto l'aumento del livello delle imposte locali che imperversava da 15 anni, ma ciò non toglie che la pressione fiscale riconducibile alle amministrazioni locali resti al massimo storico. Questa realtà è facilmente verificabile nei dati della ricerca, la legge di stabilità 2016 e le prospettive della tassazione in Italia, realizzata dalla CER in collaborazione con ConfCommercio e presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, nella sede nazionale della Confederazione. Sentiamo cosa ha detto in merito il presidente nazionale di ConfCommercio, Carlo Sangalli. Negli ultimi 20 anni i tributi centrali sono cresciuti del 72% e quelli locali di quasi il 250%. Nello stesso periodo la pressione fiscale è passata dal 40,3% al 43,7%. Tutto ciò indebolisce il nostro sistema produttivo già provato da una crisi durissima. Ridurre il carico fiscale sulle imprese e famiglie è dunque prioritario. Controllo serrato della spesa pubblica complessiva, applicazione rigorosa del criterio dei fabbisogni e dei costi standard, maggiore coordinamento tra i vari livelli di governo. Insomma, meno spesa pubblica e meno tasse è la ricetta per un Paese più dinamico e più equo che vuole crescere e per crescere innanzitutto si deve scongiurare definitivamente il ricorso alle clausole di salvaguardia. Ed ora parliamo di fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione, un servizio che ConfCommercio fornisce ai propri soci, come spiega Walter Andriolo, dell'ufficio fiscale di ConfCommercio Vicenza. La fattura elettronica è un file che contiene dati fiscali e civilistici generati da una posta procedura. Per emettere una fattura in formato elettronico si devono rispettare alcuni step. La fattura deve essere emessa da una procedura informatica e successivamente sottoscritta con firma digitale. Va trasmessa utilizzando un canale telematico e poi va in conservazione sostitutiva. Significa che si sostituisce il classico raccoglitore cartaceo ad un archivio informatico ottenuto secondo certe modalità. ConfCommercio Vicenza offre un'assistenza qualificata in questa delicata materia. Sia alle aziende che vogliono provvedere in proprio a questo adempimento, sia per quelle aziende che volessero delegare questa funzionalità. I nostri uffici di Vicenza e le segreterie mandamentali perciò possono gestire tutto il processo di creazione, spedizione e archiviazione sostitutiva. La normativa vigente in materia di commercializzazione e stoccaggio di prodotti fitosanitari è stata al centro di un incontro che si è svolto lunedì scorso al centro formazione ESAC ConfCommercio di Creazzo. Tra gli operatori del settore, i responsabili dell'US4 di Tiene e i dirigenti di Compag, la federazione nazionale commercianti di prodotti per l'agricoltura, che aderisce alla ConfCommercio. Con l'occasione abbiamo incontrato il presidente di Compag, Fabio Manara. È partito da qualche mese il piano d'azione nazionale, una normativa che coinvolge tutti gli operatori e che cambierà profondamente il nostro modo di lavorare in Italia per la vendita di agrofarmaci. Gli agrofarmaci è un settore importante, rappresenta circa un miliardo di fatturato in Italia e per il 70% è rappresentata la distribuzione da Compag, che è l'associazione verticale di ConfCommercio. Questa è sicuramente un'ottima norma. Noi fa molto piacere, l'appoggiamo nel momento in cui il legislatore si sta preoccupando della salute dell'operatore, della salute del distributore e dell'ambiente e di quello che poi arriva sulle nostre tavole. Sicuramente noi siamo favoribili a questa norma. Noi ci siamo autodisciplinati perché cosa succede? Spesso quando la norma non è chiara c'è che di trovare un sistema di autodisciplina in cui indicare ai propri operatori come comportarsi. Ed è quello che stiamo facendo, andando a spiegare agli organi di controllo, come in questi convegni, in cui ci sono gli operatori stessi, gli organi di controllo, e andando a discutere l'applicazione di questa normativa nei concetti pratici però. Cosa effettivamente uno deve fare? Per le strutture ricettive complementari che non erano classificate al 24 aprile 2015 entro il 25 agosto 2016. Resta confermato il termine del 23 febbraio 2017 per le strutture ricettive complementari già classificate al 24 aprile 2015. Vi ricordiamo che gli uffici ConfCommercio sono comunque a disposizione per altre informazioni e che maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.confcommerciovicenza.info. Sabato e domenica prossimi al Foro Buario di Vicenza andrà in scena Vicenza Agri, la fiera delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura organizzata dalla locale associazione di ConfCommercio Vicenza. Un evento che da sempre è il punto di riferimento per il settore. Oltre 50 aziende del settore provenienti da Veneto e Trentino, 9.000 metri quadri di esposizione e oltre al del tempo che ha caratterizzato le ultime edizioni sono attesi oltre 10.000 visitatori. Sono questi i numeri di Vicenza Agri 2016, la fiera delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura, il bosco e il giardino, che si terrà sabato 27 e domenica 28 febbraio dalle 9 alle 18.30 nell'area del Foro Buario di Vicenza. L'ingresso alla manifestazione naturalmente è gratuito. Questa edizione sarà la diciassettesima e si presenta ancora una volta come punto di riferimento interprovinciale per agricoltori, allevatori e contoterzisti, professionisti del giardinaggio e appassionati della campagna, dell'orto o legati all'ampio mondo della green. In mostra ci saranno tutte le ultime novità nel campo della meccanizzazione agricola per il benessere degli animali d'allevamento, per la conservazione del suolo, afferma Luigi Bassan, presidente dell'Associazione Provinciale Macchine ed Attrezzi Agricoli Boschivi di Confcommercio Vicenza. Nonché sarà un momento di aggiornamento professionale per gli agricoltori e gli elevatori, oltre che un'occasione per valutare eventuali acquisti di nuove attrezzature. A tal proposito, di recente è stato emanato dalla Regione Veneto il primo bando del programma sviluppo rurale 2014-2020, di sicuro un incentivo per gli investimenti in macchine ed attrezzature di ultima generazione a minore impatto ambientale e con migliori rendimenti degli input produttivi. La nuova fiscalità immobiliare e i provvedimenti contenuti nella Legge di Stabilità 2016 saranno i temi che si andranno ad approfondire nel convegno dedicato ai titolari collaboratori dipendenti delle agenzie immobiliari della provincia di Vicenza. L'appuntamento è per giovedì 25 febbraio alle 16.30 al Centro Formazione ESEC Confcommercio a Creazzo. L'associazione provinciale FIMA Confcommercio, che organizza l'incontro, vuole puntare l'attenzione degli operatori del settore immobiliare, in particolare su Tasi, IMU, sulle egevolazioni per l'acquisto della prima casa, sulle detrazioni per le ristrutturazioni. Questi argomenti saranno trattati da Paolo Maran, responsabile dei servizi fiscali della Confcommercio di Vicenza, mentre sarà il notaio Gianfranco Di Marco ad illustrare il leasing immobiliare. Con l'occasione, Serafino Magistro, presidente della FIMA di Vicenza, che in provincia conta oltre 400 professionisti associati ed è con oltre 12.000 associati a livello nazionale l'organizzazione più rappresentativa del settore in Italia, fra il punto sui servizi offerti dall'associazione per favorire il lavoro dell'agente immobiliare professionista. Ed ora alcune proposte formative. Dall'1 al 10 marzo, ESAC a formazione organizza quattro incontri serali dedicati alla normativa e agli aspetti legali legati al recupero dei crediti, per recuperare con tempestività gli insoluti dal punto di vista amministrativo, fiscale e legale. Dall'8 al 17 marzo, sempre in orario serale, corso in quattro incontri dedicato alle tecniche di vendita e fidelizzazione del cliente base, per conquistare e mantenere i clienti, valorizzare la propria offerta, promuovere ed incrementare le vendite. L'Università del Gusto propone il 3 marzo il corso con degustazioni dedicato alla creazione dei cupcake, i piccoli dolci anglosassoni, vere opere di design. Dal 14 al 26 maggio, 20 lezioni dedicate a Vorrei fare il passiccere, il corso professionale per apprendere competenze, tecniche ed abilità per inserirsi in modo professionale nel mondo della passicceria. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 14.30, riunione della Commissione Tecnica Consultiva Fidi Impresa e Turismo Veneto. Sempre lunedì alle 20.30, riunione dei Consigli delle Delegazioni Comunali del Mandamento di Valdagno. Alle 20.30, Assemblea della Delegazione Comunale di Gallio. Mercoledì alle 17, Consiglio dell'Associazione Provinciale Macellai. Alle 18.30, riunione delle Macellerie aderenti all'iniziativa Le Macellerie del Gusto. Giovedì alle 16.30, Convegno delle Agenzie Immobiliari sul tema Legge di Stabilità 2016, la nuova fiscalità immobiliare. Alle 20.30, riunione dei Consigli delle Delegazioni Comunali del Mandamento di Asiago e di Creazzo. Alle 20.30, Assemblea del Mandamento di Valdagno. Alle 20.45, Assemblea della Delegazione Comunale di Montegalda e di Montegaldella. Sabato alle 9, apertura di Vicenza Agri 2016. Per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana. Grazie a tutti.